Dopo dieci ore di questo Daffanculo Ho sbroccato Se è di nuovo Nino io mi disinstallo il gioco Tutti hanno fatto almeno due volte l'impostore Tranne me, tranne me È impossibile, è veramente impossibile È impossibile ragazzi È impossibile, non è possibile Ragazzi vorrei dare un attimo la parola a Meg Shosha, prego Io vi dico solo che se non sono Se non so Se sono crewmate di nuovo faccio l'alta F4 Se pronto fa l'alta F4 Spiace Chi cazzo è che ha sviluppato questo gioco Guardate, in nove ore e zero tre Ho fatto una volta L'assassino Ok, io gli mando una mail Cosa devo fare, che gli devo scrivere Com'è possibile che in nove ore e mezza Ho fatto l'impostore una volta sola Come cazzo È possibile Potete controllare se il mio account è maledetto It's not mathematically possible Mannaglielo Salve a tutti ragazzi No, non ci credo Vabbè raga Oh raga Vista Salve a tutti ragazzi E bentorni di Meg Shosha Siamo tornati su Among Us Che vi sta piacendo tantissimo E se questo video Supererà 50.000 mi piace Nel prossimo giocheremo ad Among Us E gli impostori saranno tre Succederà il delirio Ma finalmente ce l'ho fatta ragazzi È successo E quello che state per vedere È veramente incredibile La mail ha funzionato Supportatela alla grande Guardate che succede Quando io sono l'impostore Non l'ha funzionato Mo' non mi devo sbagliare ragazzi Faccio finta che faccio La task in admin Ma ho trovato Il cadavere di Fere In elettrico No aspetta Io che noia E un'altra persona Stavamo entrando dentro Io De Marche eravamo lì E Power stavo uscendo Da elettrica No no Non stavo uscendo Stavo facendo la quest Nel momento in cui l'ho finito Ho visto il cadavere Nel bordo a sinistro Io come mai ne ho seguito Come ho fatto E poi sei tornato indietro No no Fa VJ mi ha visto E faceva shieldini Ma Mike stava facendo shield Quindi Mike Mille per cento non è Mille per cento non è Beh non può aver fegato Solo per me È impossibile Io stavo entrando in elettrico E ho visto che noia E un'altra persona davanti Che non ho visto il nome Io No era di Mark E ma c'ero io Vabbè non mi avete visto A me in elettrico Scusatemi Allora l'hai riportata tu Sembrava come se stessi scappando Anche se mi sembra strano Perché di solito Uno che uccide elettrico Poi va nella pentola Lo so che sembra strano Perché prima ho fatto l'impostore Però ora sono innocente Ora sono innocente Ora sono innocente Scusate Se muoio alla prossima Era Power Allora state con me Chi vuole Può provare a guardarmi Vedrà che non ucciderò nessuno E Steffo? Steffo? E raga io vi dico Io guardavo le telecamere Lorenzista è arrivato Sì è arrivato dalla ventola Non lo vedo No Allora Ah Io lo voto Ah ma io il mio voto Su Lorenzista c'è Dai Io lo metto Io lo metto No raga Non votatemi a casa Cioè secondo me è Power Qualese qua Non so Non so State con me E lo so perché l'ho visto Ma tanto se muoio io Alla prossima è Power Allora No ma Power avrebbe fatto la giocata Che se avrebbe entrato Nei venti Gli riflessi troppo assurdi Ma anche secondo me Secondo me Se mi sembra troppo Naba come Eh Ma come No Ma come Mi ducca Oh no Ok Amma la doppia Amma la doppia Madonna Hanno fatto il disastro Io lo sapevo Che non era Power Dove hai trovato Io ho visto Favi In zona elettrica Bravo Ah Quindi hai visto che stavo andando Nel corridoio E tu eri esattamente Di me Ok Quindi qualche braccia lunghe C'ho Eh no ma infatti Potevi fare il giro d'elettrica Io voglio sentire Mike raga Io Io stavo Io stavo un Gabby Come Io Cioè Sei comunque Ti sei allontanato Quando mi hai visto Hai spento le luci Power è morto Io sono ancora vivo Quindi questo Vi dovrebbe far capire qualcosa No a parte scherzi Per me A parte sta chiamata Potrebbe essere Mark Che si è chiamato Il corpo da solo E sta incolpando Favi Jay O potrebbe essere Favi Jay Che incolpa Mark Del corpo Ragazzi Io ho fatto Caffetteria Navigation No No Siamo stati insieme Siamo stati insieme Io sono sceso giù Sono sceso giù Poi sono ripassato Ho fatto tutto il giro Dall'altra parte Fino a Matt Bay Quando mi hai chiamato Ma io ero Matt Bay Quando hanno preso il cadavere Sì Prima di Matt Bay Passato per la caffetteria Sta raccontando Cioè il corpo L'ha riportato De Mark E Favi Jay No Io non l'ho riportato Io ho visto Favi che se ne stava andando È morte Dove hai trovato il corpo La mia colpa È essere passato Sotto electrical Io stavo andando Electrica Ma per aggiustare Però visto che poi Sono state aggiustate Non sono nemmeno entrata E non so nemmeno Chi c'era dentro Perché l'elettrica Lì è un disastro Ragazzi Scusate In tutto questo Marci Raga Io era in navigation Fere Steph E Favio Io Marci non l'ho visto In navigation Io non l'ho visto In navigation Infatti io ho fatto Un po' di navigazione Con Marco E Lorenzo E non Cioè Marci non l'ho visto Però io Marci non l'ho visto Oh regà votatemi Però non lo so Cosa state votando Io ho schifo Perché Ma cosa Marci Ma di Mark Pure secondo me Cosa Stavo votando Schifo De voi poste me Votereste Mark Votate Favi Se volete Io ho votato Mike Secondo me Mark Va bene Veramente Martino Non ho parole Non lo so Marco poi Vabbè comunque occhio a Mark E a Gabby che lancia accuse Ma adesso ragazzi Per la legge grandi numeri Do uccide Favij E occhio a Gabby che mi ha capito Siamo tutti qua The Mark Favij Marci Oddio che è successo Chi è morto Favij Non vi dico dove l'ho trovato Voglio prima sapere Marco dove era Ho fatto elettrica adesso Stavo facendo in tasca in elettrica Ok Ed eri con me Io eravamo in admin Comunque Io ero appena entrato In telecamere E non ho fatto in tempo Ad accenderle Che è mai degiamato Quindi Posso Io ho fatto Lo 2 Con No Con Gabby Con Gabby E poi c'era Marci A fare un'altra task Sempre lì E arrivato dopo Però Gabby poi è sparito Ma in admin Chi c'era in admin Con me adesso Marco Marco sono andato Sopra sotto poi Io sono andato sotto Perché è più stato in elettrica Io sono andato in caffetteria Sopra E stavo facendo la task In alto a destra No sono rimasto lì E ho trovato In upper engine Favij Quindi sopra Nel motore sopra Appena proprio Era appena morto raga Quindi E allora E Mike era telecamere Ma che cosa Quindi è Sì ma da sotto Sono passato Ma io sono passato Da sotto Guarda che ci sono due impostori Mi sa Ho i miei sospetti su Gabby Cioè io stavo Io ho fatto il giro da sotto E mi avete visto pure Che facevo Martina poteva cederli mille volte Io ho fatto le task A parte scusate raga Che le task Non le staffa nessuno Io ho fatto le task In navigation E mi avete visto tutti Quindi Io ho per un po' seguito Il gruppo Comunque avresti dovuto Vedermi andare Verso A per engine No io sono entrato Nella stanza telecamera Non ho fatto in tempo Accendere la telecamera Che mi è stato Riportato il cadavere Però Io ho fatto tutto il giro da sotto Io voterei uno dei due Uno tra te e Gabby Per forza Perché Martina è un'altra parte Io voto Mike Io voto Mike Io pure voto Gabby Perché tutto il game Mi sta chiamando No Mike non credo raga Perché Sono passato da sotto Quello è morto sopra A me Gabby Mi sospettisce troppo Io voto Gabby Gabby Secondo me Gabby Mi spiace Non abbiamo perso Andiamo Secondo me sono a Martina e Mike Vuoi vedere? Io ho letto che era Mike sii sii la gente non si veda di nessuno aspetta abbiamo fatto una doppia tivo le abbiamo uccisi che era power Allora Mi pare che ho ucciso Power Io ero un po' lontana Mi ha tremato la mano Mi ha fatto una cosa per uccidere anche Steph Ma guarda proprio Sono andati nell'evento Ma in un millisecondo Se è proprio arrivato Pensavo che mi avessi visto Ma infatti vent, ho preso vent, report Ho detto oddio Adesso però vi mostrerò un game Molto più da tra gli addoni Guardate Oh regà Devo schagionare un po' di persone Rage Spawn Mi sa buone Sicuro Stanno tutti a destra Quindi sta kill non l'hanno fatta No no aspetta No stop Spawn è Alirob ha fatto gli asteroidi Spawn ha fatto gli asteroidi Spawn ha fatto gli asteroidi Spawn ha visto Devoci Spawn Chi stava a destra non può aver fatto la kill sicuro Axel una domanda Come facevi a sapere Che le persone a destra non potevano essere Quelle che hanno fatto la kill Perché sicuramente stavano tutte ammassate a destra E c'è stata la chiamata Che vuol dire Axel Axel Rite sempre Axel Axel Raga io rito sempre Te la sei un po' giocata male qua eh Raga io rito sempre ma fino a mo' l'ho sempre prese Quindi posso dire che Spawn stava a destra Te ne sei uscito con Ah regà Tutte le persone a destra E non posso mai fatto la kill Non sapevano Durante la chiamata Quelle persone stanno a destra Come fanno ad aver fatto la kill Se stavano con me No La kill dove stava fatta No allora fermo Non concordo quando era Allora Gabrile non aveva mai detto Dove sta Non l'ha mai detto E ti hai detto chi era a destra E sicuramente aveva fatto la kill Eh infatti ti ripeto Ti ripeto Non stai impulando da solo Axel Vedrete ragazzi Vedrete Vedrete segui le call Ricordiamo che neanche Rage Ha votato Axel Sì sì ricordati tutto Quello che ti fa Se non l'ha uccisa Mi ha mai visto Vent No Andre No Andre Siamo rimasti chiusi Dentro la vent Dove? Mi sentite? In caffetteria Rages Quante persone sono morte adesso? Gabriel? Rage? No Axel è andato fuori noi Gabriel è Rage Gabriel è Rage Io ho trovato Rage Quindi Gabriel non si sa Ma la kill è stata fatta Al round di prima No abbiamo cacciato Axel Perché Gabriel ha trovato Il cadavere in elettrica Ok Sono d'accordo che Axel Non sia il cattivo Visto che due kill sono state fatte Esatto Vabbè così impara A fare il saccente Io ho visto spawn fare anche gli scudi E test pump conferparmi per me Che ho fatto pulire gli scudi Sì ti ho visto dagli scudi In realtà non hanno laggato Però non è Cioè probabilmente le hai fatti Io e Devoji siamo buoni per le visual task Nova probabilmente ha fatto una visual task Degli scudi per secondo Non sicurissima Però piuttosto certa Anche perché mi avrebbe ucciso sette volte Avanzano in track Dato che hai fatto Infatti Dato sta sempre zitto Eh Dato che giro hai fatto Mike Parli troppo Guarda io parlo troppo perché hai capito che Oh ho finito i miei jolly Quindi io Io mi sono fatto Dato fermo fermo Dato che hai fatto Io mi sono fatto le foglie Sì le foglie 200 anni fa Bisogna ammazzare spawn Chi? Ok No no Ho trovato il cadavere in electrical Camper Vorresti dirmi il motivo per cui Mi stavi rincorrendo Tra l'altro No io sono scappato da te Dato Sono scappato da te Anche io sono scappato da te Per dirti Perché io sono Stavo andando Devo andare a fare task in reattore A fare task Boh Mi sono visto che ero solo con te E mi sono andato via Fine Questa è stata la storia E non puoi dire no Perché ho cambiato completamente direzione Ho fatto un 90 gradi E io Tu mi hai seguito fino alla tannica di benzina Poi Stavo andando Stavo andando verso il reattore Appena ho superato la porta di electrical Tu hai cambiato giro Tra l'altro si erano appena spente le luci E ho riportato a vuoto Perché non vedevo un cazzo Allora Io ragazzi Quindi te mi puzzi veramente Io ero con Giovanni che è morto Ero letteralmente a un metro da lui Se avessi attaccato Giovanni E allora è che chi sta No C'era camper a electrical Si è sospente le luci E è morto Giovanni Quindi Io ho visto camper che scappava Gli assassini sono due Gli assassini sono ancora due Sì sono ancora due Io ho visto dado che rincorreva camper Io pure sono scappato da dado E quando sono scappato ho incontrato nova E de voci E mi sembrava che de voci scappasse da nova Quindi secondo me sono dado e nova Però io vado dare Questo camper è mike per me Sì vabbè io vado dare E per me per me è camper tutta la vita Ragazzi che avete votato? Per il secondo non ho idea Però secondo me è camper tutta la vita No dado Eh abbiamo perso Abbiamo perso Era un camper e mike Rip Io non stavo capendo a niente Oh mike Era camper Non era Non era Non era Non c'era 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 Tipo quattro persone